Spaghetti fritti Il piatto ricco e sfizioso che anche i bambini adoreranno. Si tratta di un ottimo escamotage per utilizzare eventualmente la pasta avanzata da qualche altra preparazione. . Gli spaghetti fritti croccanti in padella che ne vengono fuori sono assolutamente irresistibili per via della loro crosticina dorata. . La ricetta che trovate sotto più a maiuscola con tilde indice 2 essere considerata una base da arricchire a piacere con salumi prosciutto cotto in primis e formaggi come la mozzarella. . Ecco come si preparano. Ingredienti 300 grammi di vermicelli 2 uova 1 cucchiaio di prezzemolo 5 cucchiai di salsa di pomodoro 100 grammi di grana sale e pepe olio extravergine di oliva 2 pomodori 1 ciuffo di basilico Dopo preparazione, fate lessare la pasta in acqua bollente salata, scolatela al dente, e trasferitela in una ciotola. Conditela con del grana grattugiato e della passata di pomodoro. . In una terrina a parte sbacchete le uova con un pizzico di sale con una forchetta, trasferite quanto ottenuto in una padella antiaderente con un filo di olio, ed unite anche la pasta. . Aggiungete il prezzemolo, e fate cuocere la pasta per 5 minuti, quindi giratela sull'altro lato e completate la cottura fino a doratura. . Servite gli spaghetti fritti insieme a pomodorini e basilico fresco e gustateli caldi. . . Potto sbarra isti occhi. . . . . .